ciao sono il dottor max della farmamax che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata agli integratori alimentari ti leggerò i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace ai video che ti interessano e commentare con le tue esperienze personali in base ai farmaci integratori o principi attivi da te assunti in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie ai suggerimenti condivisi in questo video esaminiamo l'integratore alimentare sun progine euro medical 2000 ultimo aggiornamento 7 aprile 2022 a cosa serve confezioni informazioni commerciali modalità d'uso descrizione e caratteristiche ingredienti a cosa serve sun progine è un integratore appartenente alla categoria degli integratori di minerali è commercializzato in italia dall'azienda euro medical 2000 informazioni commerciali titolare metagenics dba belgium concessionario euro medical 2000 categoria di appartenenza integratori di minerali forma farmaceutica compressa confezioni sun progine 30 compresse modalità d'uso mezzo compressa al giorno o secondo prescrizione descrizione e caratteristiche apporta benefici all'uomo a partire dalla 50 in un uomo su due ha problemi di prostata nei paesi orientali questo non avviene e le ricerche scientifiche hanno dimostrato che le diverse abitudini alimentari danno ragione di questa differenza gli orientali consumano più prodotti a base di soia attualmente non c'è alcun dubbio sul ruolo protettivo esercitato dagli isoflavoni estrati dai fagioli di soia come pure in merito a quello del licopene estratto dai pomodori di zinco selenio e vitamina e ingredienti per mezzo compressa l'estratto di fagioli di soia glicine max 100 00 mg 40 per cento di isoflavoni vit e acetato di di alfa tocoferolo 25 00 mg 250 per cento zinco metionina di 21 e 50 mg 143 per cento estratto di sabala sabal serrulata 16 66 mg glutatione ridotto 750 mg dit b6 hcl di piridossina una e 50 mg 75 per cento licopene 0 75 mg selenometionina l selenometionina 100 00 mg 143 per cento eccipienti fosfato bicalcico cellulosa microcristallina polivinil pirulidone talco cross carmellosio stiarato di magnesio biossido di silicio per cento agr uguale apporto giornaliero raccomandato c'è fonte codifa l'informatore farmaceutico per avere accesso alla versione più aggiornata si consiglia l'accesso al sito web della codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero che la farmamax ti sia stata utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo integratore alimentare esaminato grazie a tutti